Il tempo sulla nostra regione continua a essere influenzato da questo vasto anticiclone che mantiene sull'Europa tempo stabile e soleggiato. Per sabato e per domenica prevediamo dunque bel tempo con cielo sereno ovunque su tutte le zone. Verrà piuttosto freddo al mattino, specialmente in pianura e nei fondovalle, con valori attorno ai meno 10 nei fondovalli alpini, attorno ai meno 4 o meno 5 in pianura. Temperature massime non supereranno gli 8-9 gradi in pianura e anche sulla costa. Durante le ore più fredde non è escluso qualche banco di nebbia sulla bassa pianura vicino al Veneto. Da lunedì probabilmente ci sarà un cambiamento del tempo, l'anticiclone si ritira in Atlantico e potrebbe avvicinarsi una saccatura che potrebbe portare qualche debole pioggia sulla costa, forse anche su qualche altra località nella giornata di martedì. Dall'Osservatore Meteorologico dell'ARPA, Livio Stefanutto.